Se sono parenti o amici, devi rendersi conto di una cosa. Intanto partiamo dal presupposto che se sono persone maligne e malvagie non sono amici. Quindi se non c'è un legame, tra virgolette, di sangue, di parentela, quelli non sono amici. Quindi toglieteli dai coglioni, tagliando di netto o di brutto. Se si tratta di parenti, bisogna vedere il grado di parentela. Perché fatti i salvi, i figli e i genitori, da cui è difficile creare un distacco, tutti gli altri, come dire, puoi tranquillamente, gradualmente ignorarli, non prenderli in considerazione, cambiare abitudini, inventarti delle storie. Tanto questi manipolano inventarti delle storie, che ne so, che sei più impegnato sul lavoro, che hai cazzi e mazzi, quello che vuoi. Anche cose magari che loro non possano neanche invidiare, no? Quindi, che ne so, cose, faticare, lavori, eccetera, eccetera. E quindi piano piano te li sganci con delle scuse. Se si tratta dei genitori, ovviamente, o dei figli, diventa più difficile sganciarsi. Ma anche questo non è impossibile. Basta mantenere i rapporti formali. Soprattutto se si tratta dei genitori, devi arrivare al perdono. Perché soltanto arrivando al perdono, riuscirai a distaccarti, trattandoli come persone adulti. I figli, uguale. Spiace dirlo, ma se i figli, una volta diventati adulti, bisogna recidere questo cordone umbilicale e far sì che si faccia una loro strada. E tu, ovviamente, mantieni i contatti, ma purtroppo superficialmente c'è da chiedersi se sono i figli come mai sono diventati così. Questa domandina andrebbe, diciamo, bisognerebbe porsela perché nel rapporto tra genitore e figli, beh, insomma, che i figli diventano, tendono ad essere un po' plasmati dei genitori. Però, tutto sommato, ognuno deve poi puntare sulla propria diesistenza. Iscriviti al mio canale YouTube, seguimi ovviamente su Instagram, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ciao a tutti!